Appena segnato Calulu, appena segnato Calulu, il Milan così arriva al 2-2, una partita sofferta, una partita difficile, una partita ostica, una partita complicata, perché prima della partita, oltre a Chiair, oltre a Gabbia che è il suo sostituto, oltre a Benasser e oltre a Ibraimovic, il Milan perde Teo Hernandez, colui che ha regalato l'ultimo punticino al Milan nei minuti di recupero con una doppietta, l'uomo forse più importante, tolto Ibraimovic e tolto Chiair, che è una colonna portante di questo Milan, ma quanto ha Teo Hernandez meno di Chiair e meno di Ibraimovic? Praticamente nulla. Eppure il Milan sta riuscendo nell'impresa, io la definisco così, di portare a casa un punticino anche da Marassi. Questo consentirebbe alla squadra di Pioli di intanto mantenere la stessa distanza con la Lazio, intanto di mantenere la stessa distanza con l'Atalanta, intanto di mantenere la stessa distanza con la Juventus e intanto di tenere il più uno di vantaggio sull'Inter che sta vincendo contro il Napoli. Quindi non è poco se pensiamo intanto alle circostanze che vi ho appena elencato che hanno portato il Milan a Marassi e poi se pensiamo che l'obiettivo intanto primario, primario, senza fare voli pindarici, con la legittima possibilità di sognare, è il quarto posto. E intanto il Milan stasera, oltre a tenere le distanze e a tenere il vantaggio, tiene anche, anzi aumenta di un punto il vantaggio sul Napoli che per il quarto posto è un'avversaria assolutamente temibile, in una giornata dove si è rivista l'Atalanta di bei tempi. Poi vedremo quello che regalerà il campionato, il caso Gomez. Detto questo parliamo di casa rossonera e non parliamo di casa altrui. Mentre la rovesciata di Scamacca fa venire i brividi a Stefano Pioli, ma l'Ibraimovic che il Milan ha tra i pali, ovvero Gigio Donnarumma, a Libra Giovane di questo Milan, ha compiuto un'altra enorme, grandissima, importantissima parata. Veniamo alla prestazione, una prestazione con pochi sussulti, eppure il Milan nel primo tempo rischia di andare in vantaggio con una grande giocata di rebice, lì uno con l'istinto del numero 9, li vede Perin, che è già su quel palo, è già su quella direzione, anziché calciargli addosso, lì la piazza sul primo palo e fa gol praticamente sempre. E invece lì proprio manca l'istinto del numero 9 a Dante Rebic, che supa così un'ottima giocata, una grande giocata, degna del Rebic che si era visto nella scorsa stagione, nel post-lockdown, nel Milan di Pioli e nel Milan di Ibraimovic, e nel Milan anche di Chiair, che stasera è mancato e si è visto, quando si è visto. E intanto sul primo gol, anche se lì è una serie di circostanze e di errori, lì un po' tutto il pacchetto difensivo ha sbagliato e ha permesso a Destro, a Schumordov, di tirare. Donnarumma miracolo, anche lì, e poi Destro a ribadire in rete. Ma soprattutto sul secondo gol di Destro. Ecco, io sono straconvinto che se ci fosse stato Chiair, Destro non avrebbe mai colpito il pallone con questa semplicità, con questa possibilità di centrare la porta, di indirizzarla, di schiacciarla per terra e di guardare anche l'incrocio dei pari. Per quanto riguarda invece i terzini, Dalot, per lui un compito difficile, sostituire Tio Hernandez quasi a freddo. Alla vigilia era addirittura indicato per partire a destra Dalot su Calabria, invece il destino ha voluto che il risentimento di Tio Hernandez abbia intanto permesso a Dalot di giocare comunque ma a sinistra, ma soprattutto di restare in campo a Calabria, che era indicato e viaggiava verso una panchina, un turno di riposo. In realtà proprio Calabria trova un gran gol, pesca il jolly, porta il Milan sull'1-1 in una partita molto, molto difficile, in una fase del match molto calda e Calabria che oltre al gol ha fatto anche tanto, 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 tanto in fase difensiva. Una difesa che ha un po' tramallato, Calabria quando ci doveva essere, quando ci doveva essere, c'è stato. A centrocampo, Tonali così e così, intanto vi chiedo scusa se ogni tanto guardo televisore perché sto seguendo le ultime battute di questo match che si sta avviando verso la conclusione, Tonali così e così che si ha un po' abbassato i ritmi in questa fase della stagione e lui si sta chiedendo tantissimo e nonostante i ritmi un po' abbassati, la sua presenza a centrocampo è costante, fondamentale, si fa sentire per quantità e per utilità. Poi arriviamo lì davanti, direbbi ce l'ho già detto, si è apparecchiato benissimo l'occasione che avrebbe portato il Milan in vantaggio, poi ha sciupato perché gli mancava lì davanti l'istinto del numero 9 e dietro a lui non mi è piaciuto Leao, troppo poco ha fatto vedere, a parte quell'appoggio ad Aughe che quando è entrato poi ha sfiorato ancora una volta il gol alla Aughe ha fatto ben poco, Leao, Benino, Cialanoglu ma anche lui stasera mi sarei aspettato di più dalla punizione del primo tempo, aveva dimostrato di saperci fare come contro il Parma e non solo, anche contro il Celtic l'avrei sfruttata meglio fossi stato in lui questa punizione e poi la prestazione di Castieco che non mi è piaciuto affatto si è fatto anche ammonire in uscita, insomma è un Milan che intanto è finita la partita, un punto pesante, questo un punto pesante è un punto assolutamente guadagnato, un punto assolutamente guadagnato, una partita questa dove il Milan ha sofferto tremendamente le assenze e ci sta, non può pensare il Milan di poter vincere sempre, è molto importante ora affacciarsi a Sassuolo e Lazio senza aver ancora mai perso, lo zero alla casella delle sconfitte è una statistica che solo Milan e Juventus possono, di cui possono vantare quindi è una statistica che oggi fa bene per il morale, per la convinzione e per tanti aspetti, vuol dire anche aver saputo fino ad oggi saper far fronte alle difficoltà, poi c'è questa possibilità e negli ultimi giorni l'abbiamo assaporata e chissà che nei prossimi giorni potremo toccarla con mano, come direbbe Gattuso o comunque potremmo festeggiarla il ritorno tra i convocati, quantomeno tra i convocati, tra i disponibili soprattutto di Vraimovic, magari anche di Chiaer intanto è da valutare l'infortunio di Ternandez ve lo leggo al volo, Ternandez che ha un affaticamento al flessore da valutare le sue condizioni, difficilmente il Milan recupererà Benasser difficilmente il Milan non avrà e riuscirà a compiere il suo cammino senza intoppi è una consapevolezza cui devono abituarsi sia Stefano Pioli che i giocatori i tifosi del Milan perché in una stagione così, lo dicono i risultati di questa sera in una stagione così sarà molto 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 complicato tenere sempre gli stessi ritmi però quando gira, finché gira è giusto sottolinearlo non è giusto parlare di fortuna, è giusto parlare di meriti anche stasera la difesa dà e la difesa toglie perché poi dai due difensori sono arrivati i gol dell'1-1 e del 2-2 però certamente se dovesse il Milan ritrovare anche solo due di questi quattro giocatori fondamentali parlo di Ternandez, Benasser, Chiaer e Ibraimovic se il Milan di questi quattro ne dovesse ritrovare almeno due per la trasferta contro il Sassuolo di domenica beh sarebbe già tanta roba in vista dei prossimi impegni che sulla carta sono molto 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 complicati l'importante era restare lì, l'importante per il Milan era restare, era mantenere le distanze era restare in vantaggio, era conquistare laddove si poteva conquistare lo ha fatto il Milan conquistando un punto a Genova lo ha fatto il Milan conquistando un punto sul Napoli e tenendo un punto sull'Inter qui sotto le coordinate ve le ho dette all'inizio, ve le ripeto adesso per iscrivervi, per mettere mi piace, passaggi fondamentali restate su Milanello per tutti i nostri approfondimenti ciao